La Parashah di Cholamoed di Pesach, come quella di Sukkot, è un brano tratto dal Libro dell'Esodo che riguarda il perdono del popolo ebraico dopo il vitello toro. Qual è il legame tra questo brano e le feste principali? La necessità di sottolineare che il Regen, la festa, il pellegrinaggio è un'esperienza di avvicinamento a Kadosh Baruch Hu. Moshe chiede di conoscere le strade di Dio Benedetto, o di Enina et derachecha. Dio Benedetto risponde darò grazia a chi la concederò e quindi è possibile semplicemente conoscere gli effetti del suo passaggio ma non è possibile vedere il suo volto. Ebbene durante la festa di Pesach, particolarmente poi nella settima sera, non riusciamo a vedere il volto di Dio, chiaramente, ma gli effetti del suo passaggio Raubbanimer Geuratò. I figli hanno visto la sua potenza, riusciamo nella gioia della festa a percepire come il popolo ebraico, il tempo e le mitzvot siano quegli elementi che ci consentono di capire e comprendere Dio Benedetto.